Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi proviamo Rico Rank 35, ma perché vi ho portato questo video? Perché probabilmente concluderemo anche la sua maestria, se i calcoli dei miei kebabbonati funzionano bene, loro mi hanno detto che in teoria dovrei finirla. Comunque vedete, manca davvero poco, hai 24.800 e all'acquisizione del titolo The Lover. Come al solito vi chiedo di lasciare like, di iscrivervi e di supportare il canale, so che ultimamente carico davvero poco, sono in un periodo un po' no della mia vita, però chiaramente se noto tanto supporto da parte vostra, la voglia mi risale e i video saranno sempre più frequenti sul canale. Detto ciò, andiamo col primo game, siamo con Lorenzo Erezco che ringrazio di cuore, vamonos! Ma che cazzo rola e scrivi di toilet? Grazie a tutti! Game, game! Scusate, sono ancora sconvolto dalla mia visione di Piper Rule 34. Abbiamo Rico il lane che per ora stiamo dominando, come vedete è molto low. Dobbiamo schiacciarlo di qua, non dobbiamo farlo salire, attenzione perché siamo low. Buono così, peccato che non riesco a finirlo. Recuperiamo, recuperiamo ora ragazzi. Lui non sta recuperando, è solo positivo per noi. E vedete infatti che ora li abbiamo schiacciati da Dio e abbiamo fatto il gol, let's go, let's go! Chi sono gli altri? Ah, due Rico? Due Rico di nuovo ragazzi, due fottuti Rico di nuovo! Ma what the hell? Chi è l'altro Colt? Carlo? No, non capisco chi sia il terzo. Clancy, Clancy. Con doppio Rico, Clancy sta mappa, io non lo so. Devono essere proprio dei bisaggiati assurdi questi. Meglio per noi. Buono, vamonos col prossimo game. Gay! Ok, skibidiski. Arriva qualcuno da qua? No? Ehi Colt, l'auto aim con me non funziona, mi dispiace. A meno che non sei ad un passo da me, con l'auto aim non puoi killarmi. Te l'ho detto, l'auto aim non funziona, zio, devi mirare, devi mirare. Altrimenti ti fotto. Let's go, skibidiski. Shotato. E let's go, skibidiski, let's go! Stra easy, facilissimo. Troppo forte. Posso smettere di giocare il gioco anche per un anno, sono lo stesso troppo forte. Gay, gay. No, non mi dire che è Christian però. Mi dissocio dagli snipe. Non è snipe, meno male. No, no, io non mi sono mai fatto sniperare in vita mia. Io sono anti-snipe. Vabbè, ma questo! Cosa c'è la calamità su di me? Che mi vedeva, mi vedeva nell'erba. Non lo so. Oh, questi qua sono aggressivissimi, eh. Oh, oh, il colt! Pazzito! Guardalo! Oh, ma crepa figlio di una... Guarda! Ce l'hai a destra, Rezgo! Vabbè, ciao Rezgo, vai dritto, vai. Ecco, crepato dal colt. Sto colt vi giuro. Sto colt vi giuro. Guarda, non... Ti auguro quello che ti vorrei augurare. Però sappi che ti vorrei augurare tante belle cosette. Vabbè, pure questo è impazzito, dai. Guardate il colt! Fa pure cagare, però becca comunque perché va... Oh, shit. Quando vedo Clancy mi cago sotto. L'abbiamo qua davanti, Clancy. Bella, 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 bella. Bravo, Rezgo. Buono così. Male, male da parte mia. Non ho giocato troppo bene sta partita. 1190. Quasi 1200, raga. La prossima dovremo arrivare a 1200. Ma ai tempi della season... Delle primissime season, intendo. Io ci nerdavo, regali, come un maiale. Mi piaceva troppo. Finivo a scuola e non pensavo ad altro che giocare a Fortnite. Non so voi. No, telefono non ci ho mai giocato. Che video stai registrando? Quello per Rico al 35 e la sua maestria. Goto, finalmente il mio gadget! Attenzione! Meno male, 40 HP. Porco lo diavolo morto. Ok. Passo qua. Ok, peccato! Oddio, attenzione, c'è va l'apertura. Peccato che Gale l'abbia tirata via. Noi siamo quasi con l'hyper carga. Attenzione perché c'è solo un gadget. Gale è qua. No, più sopra. Oh, shit. Da dove è sbuccato? Ottimo. Non so chi abbia tirato via la palla dei loro, però l'hanno tirata via. Dio bel, ragazzi, con la ulti. Ah, l'hyper volevo dire. Ah, qua sono danni. Eh, ci ho provato. Volevo far fuori il rico. Ecco qua. Meno male, meno male, meno male. E te la do, dai! No! Nient'altro non avrebbe segnato comunque. che la va sia il tornado che quasi la ulti. Questa sarà combattuta. Ne abbiamo quasi un'altra hyper. Non ci voglio credere si è aperto tutto. Ok. Ti prego. Ti prego. 6-2, buono. Attenzione. A questo punto... Dai, sì, per i content prendiamo sti token. Io non li avrei sprecati, però... Per una volta che capita, dai. Che... Che non lo facciamo. Sì che lo facciamo, dai. Prendiamo dell'over. Anche se io non sono dell'over. Odio qualsiasi tipo di relazione, qualsiasi tipo di ragazza. Andiamo col prossimo game. Gay. Allora, Lola è la prima volta che la becchiamo contro. Ci zona un po', però... Allo stesso tempo ha meno range di noi. Io ce l'ho più lungo, in poche parole. Facciamola fuori. Quasi, quasi, quasi. Recuperiamo. Andiamo da sopra, andiamo a schiacciare. Perfetto. E ora è gol. Buono così. Meno male che Lorenzo sta avendo tanta fortuna con le ulti. Sta beccando sempre la ulti che apre. Cosa molto positiva per noi. Oh, la Mandy! What the hell? Da dove mi è nata fuori sta Mandy? Mandy? Vabbè, meno male l'ho fatta fuori prima di morire. Abbiamo tre quarti di hypercharge. Porco due, il pisellone è quasi in bocca. Ok, se tu appena mi arrivi addosso... Boom. Gadget. È vero, il mio gadget è inutile. Guardate quello con quanta HP rimane. No! Il pisellone Lorenzo. Lorenzo, il pisellone è quasi in bocca? Lorenzo, questo era predictabile. O forse lui non l'ha vista, Mandy. Oh, non lo so. Ok, molto nice. Molto nice. Leskowski! Attenzione, Lorenzo qua si è rischiato. Un tiro un po' sus, però buono è entrato. Ragazzi, tanta roba. E in teoria ne manca solo uno per riportare il nostro Rico all'undici. Tanta, tanta roba. E il tutto è ancora più nice perché come vi ho fatto vedere prima abbiamo anche terminato la maestria. Quindi tanta, tanta roba. Let's go con l'ultima probabile partita del video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, supportate il canale, conto su di voi. Spacchiamo il culo a questi. Zackete. Zackete e zackete. Scusate il rutto. Spike è one shot. Forse con la chiusura di un mio compagno potremmo farlo fuori. Evitiamo curveball. Guardate come si dodgia curveball. Così, avete visto? Così, avete visto? Squala brawl. Poi è diventato un pinball però tra Rico e Spike. Ok. Buono così. Ragazzi, possiamo dire di aver fatto Rico all'undici. Lo posso già di all'undici ancora. Al trentacinque. Al trentacinque. Al trentacinque. Posso già dirlo ragazzi, posso già dirlo perché ormai questi qua sono bottazzi e li abbiamo già battuti. Segnatevelo. A meno che quello non si faccia a livello oro, allora lì potrebbero essere piselli amari. Buono ragazzi, al trentacinque. Finito, finito il nostro trentacinque. Let's go! Buono così. Finalmente riesco a concludere un rank. In pochissimo tempo, neanche troppo. Mille duecentocinanta paro paro? Paro paro. Perfetto ragazzi, terminiamo il nostro trentacinque così. Vi ricordo che abbiamo già tutti i nostri broi al trentacinque, però sto facendo un pre-push per le 100.000 o almeno è la prima volta che ve lo dico, però ve lo annuncio appunto. Sto portando tutti più o meno alle stesse coppe per poi arrivare alle 100.000. Io vi chiedo di iscrivervi, lasciare supportare il canale perché il vero e proprio push per le 100.000 arriverà solo a 100.000 iscritti ragazzi. So che sono tanti, ma so che voi siete tantissimi, siete più degli iscritti che mancano. Cazzarola. Iscrivetevi, premete quel bottone, è gratuito, non vi costa nulla. Noi ci becchiamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.